maico per duemila euro lo mangeresti un rospo ma calice va bene era così per parlare crudo o cotto crudo no non ce la fa il gozzo te ma non ci pensare nemmeno magari ti guardo non te lo mangio un rospo crudo per 2.000 euro 3.000 ma vaia vaia lo chiede a lui perché ticchio o me per 5 euro ti mangia anche te non so ticchio io sono un ottimo risparmiatore vediamo lo mangeresti un rospo per di fammi almeno della cifra un rospo per di fammi almeno della cifra